buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi lunedì 12 ottobre 2020 siete sul canale 17 un caro saluto a tutti voi telespettatori di Fano TV per cominciare come sempre questa nostra mattinata in diretta con l'informazione partiamo dai giornali partiamo però prima dal santo del giorno oggi è un santo nostro corregionale vabbè c'è anche San Placido però c'è anche San Serafino da Montegranaro e andiamo ad Ascoli San Serafino da Montegranaro felice De Nicola religioso dell'ordine dei frati minori cappuccini il sole sorgerà alle 7.23 tramonterà il 16 18 e 33 minuti andiamo a vedere il tempo subito una panoramica con la grafica di trebimeteo.it questa è la mattina poi il pomeriggio vedete si intensificano le piogge anche nella costa il bollettino della protezione civile delle marche l'animazione ci indica pioggia un po' su tutte le province anche con temporali sulla fascia collinare costiera prevalente carattere appunto di rovescio temporale fenomeni in esaurimento nel corso della serata le temperature sono in diminuzione vento moderato sulla costa domani martedì 13 ottobre che cosa ci attende un miglioramento anche se un po' di pioggia rimane deboli piovaschi residui soprattutto al mattino di domani lungo la fascia costiera sud meridionale siamo nella zona di San Benedetto del Tronto mentre man mano poi schiarisce durante la mattinata di domani ancora un blocco anticiclonico permetterà il transito di perturbazioni in successione nella penisola con tempo instabile anche durante tutta questa settimana insomma avremo un po' di sole un po' di pioggia sarà questo un po' l'andamento di questa settimana che ci attende intanto c'è lo sport c'è lo sport sui giornali questa mattina tutti gli insetti sportivi ma ci sono anche tante pagine che riguardano il covid-19 e questa seconda ondata che ormai possiamo dire ahimè sta arrivando piano piano ma insomma con tanti distinguo rispetto alla prima ondata sarà un secondo tempo ma certamente più preparato dal punto di vista se vogliamo anche nostro dove saremo più preparati anche se siamo chiamati ancora una volta a fare la nostra parte subito la prima pagina del resto del Carlino sì la VL è tornata colpo grosso a Venezia titolo repeggia una squadra vera dice l'allenatore il coach mentre Marche e i contagi tornano a tre cifre sono 108 i nuovi positivi ma in provincia si fermano a quota 7 in provincia di Pesurbino ecco perché qui adesso va meglio la prevenzione finalmente i primi test rapidi li utilizzeremo nelle scuole non solo virus c'è anche la movida ci sono i controlli un ragazzino finisce in coma etilico e poi a Fano il lutto per la morte di padre Damiano aveva 103 anni padre Damiano lo ricordiamo tutti lo storico frate del cimitero centrale di Fano vedremo tra poco nelle immagini nella fotografia movida il giro di vite funziona il titolo invece d'apertura del Corriere Adriatico edizione di Pesaro capofuoco a mezzanotte nel centro di Urbino bene le mascherine ma non gli assembramenti anche a Pesare Fano i controlli sono raddoppiati ma le forze dell'ordine non hanno infierito la VL fa l'impresa Venezia schiantata grande impresa contro la corazzata Venezia Mestre 72 90 questo il punteggio finale un match dominato sempre rimonta show della vispesero il Matelica KO siamo in serie C finisce 2 a 1 con la vittoria dei bianco rossi la trincea dei pediatri invece sul fronte covid e dell'epidemia i tamponi vanno fatti e sotto muore a 101 anni il cappuccino più anziano del mondo ecco se vogliamo possiamo anche mettere indicare questa questa tappa che ha raggiunto appunto padre Damiano e da Pesaro spallate alla porta picchia la moglie lei fugge lui finisce in cella voleva lanciarsi a Monteporzio voleva lanciarsi dalle mura salvata dal maresciallo andiamo nelle pagine interne subito vediamo la pagina che si occupa del covid nelle Marche il Corriere Adriatico contagiati in isolamento a quota 1000 iniziano a crescere i positivi nelle classi quindi a scuola ieri erano 108 i marchigiani risultati infetti dopo il tampone sono 45 ricoverati negli ospedali dunque aumentano i contagi nelle Marche crescono soprattutto nel percorso scuola tanto che oggi diverse classi tra Ascoli e Ancona saranno chiuse in quarantena ieri erano 108 i positivi al coronavirus rilevati tra le nuove diagnosi ieri sono stati fatti 1438 tamponi testati il numero più alto dopo l'estate nella provincia di Ascoli Piceno ci sono 33 casi 31 in quella di Ancona 28 a Macerata 7 soltanto nella provincia di Pesaro Urbino e poi 5 a fermo 4 fuori regione il Corriere sull'altra pagina parla della quarantena quarantena che scende a 10 giorni e per uscire basta un tampone sono le nuove regole decise dal comitato tecnico scientifico per gli asintomatici 21 giorni poi saranno liberi la decisione arriva sulla base di dati scientifici così il ministro della Salute e Speranza ha annunciato che la quarantena scenderà da 14 a 10 giorni con i positivi che dovranno fare un unico tampone per uscire dall'isolamento mentre arriva il via libera ai test rapidi per i contatti stretti non solo gli asintomatici che non riescono a negativizzarsi dopo 21 giorni avranno comunque concluso la quarantena e saranno liberi dal momento che la carica virale sempre secondo il comitato tecnico scientifico è talmente bassa che il soggetto non è più in grado di infettare sono queste le misure apportate approvate dal comitato che confluiranno in un'unica circolare del ministro della salute e non è poco devo dire perché ci sono persone questo lo raccontano insomma i fatti la storia anche nella nostra provincia persone che prima di negativizzarsi sono passate tante settimane e che hanno dovuto attendere oltre un mese prima di uscire di casa a spasso con la mascherina jogging libero stop totale a calcetto e basket tra amici siamo sul quotidiano nazionale salve le società dilettantistiche scure su stadi e palazzetti solo 500 spettatori all'aperto e 100 al chiuso sì a tennis e palestre dunque la passeggiata e il footing stesso luogo magari il parco vicino a casa e due diverse indicazioni quindi cerchiamo di comprendere un po' per non fare confusione nel caso in cui si decida di fare una camminata da soli o con un amico per semplice relax quel tipo di attività motoria rientrerà nell'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie così come si legge nel decreto se invece stesso parco stessa situazione eccetera però si decide di fare jogging quindi di correre o qualsiasi altra attività sportiva in quel parco di cui vi abbiamo parlato ma che potete immaginare essere quello sotto casa insomma ma che non sia di contatto quindi non c'è l'amico l'amica la passeggiata di relax ma si corre per rimanere in forma per tanti altri motivi ecco in quel caso non ci sarà l'obbligo di mascherina questo lo stesso concetto vale anche per la bicicletta se la si utilizza per fare sport niente mascherina se invece la tiriamo fuori dal garage per una passeggiata in centro o per fare la spesa la protezione quindi la mascherina serve ora quindi credo che questo sia chiaramente è diverso rispetto a quello che ci dicevamo la settimana scorsa dove fare una passeggiata con il cane non serviva la mascherina in questo caso è importante e bisogna metterla le cose sono cambiate e dunque non è attività fisica non è attività come dire non è jogging non è un correre per fare sport è un camminare per fare semplicemente per sgranchirsi un po' le gambe quindi è un po' diverso il concetto e allora hanno fatto questa differenziazione qua e allora bisogna attenersi alle regole intanto il Carlino pubblica un'altra pagina sulla seconda fase di questa epidemia contagi boom nelle marche noi resistiamo occhio però il virus non è più buono ieri 108 nuovi positivi in regione solo 7 da noi qui in provincia l'isabetta esposto dice a sud il covid circolò meno durante il picco e qui ora siamo più attenti la curva va su ma noi dobbiamo fare in modo che salga il più piano possibile però ecco la seconda vera ondata potrebbe arrivare verso febbraio però in questo caso noi siamo preparati nel senso che abbiamo già visto come funziona sappiamo quello che dobbiamo fare e siccome il virus circola attraverso le nostre gambe perché non ha le zampette e salta da un posto all'altro lo trasportiamo noi noi esseri umani allora se stiamo uno distante dall'altro anche dentro casa è importante il covid rimane lì e non non va altrove poi è chiaro che bisogna individuarlo attraverso i test e quindi più se ne fanno e meglio è però bisogna stare distanziati mascherine distanziati e lavarsi le mani con il gel e il gel ecco finalmente i test rapidi arrivati i primi 1200 qui all'area vasta di Pesaro serviranno in particolare per le scuole è importante per le scuole anche perché anche perché non tutte le scuole in questa fase dove quando c'è uno studente che magari ha un po' di febbre fanno scattare tutta la macchina organizzativa ed è anche comprensibile e quindi vanno un po' contro la regola quella che invece prevede di chiamare fare bloccare tutta la scuola mettere insegnanti in quarantena classi in quarantena si chiama a casa venite a prenderlo e zitti zitti chi si è visto si è visto è un fatto normale perché quando si passa da un'esagerazione all'altra poi succedono anche queste cose allora test rapidi in realtà ecco questo serve anche per evitare questa situazione qua cioè di scuole che invece di chiamare a casa e far portare via le persone gli alunni così fanno i test e quindi si sa subito se quel ragazzino o quella ragazzina ha l'influenza oppure no insomma una via di mezzo come si dice richiede soltanto 20 minuti mini lockdown invece chiusura anticipata e speranza vuole evitare le feste a casa facciamo di tutto per evitare la serrata nazionale non possiamo anche permettercelo abbiamo detto tante volte il ministro Lamorgese ammonisce i ristoratori è saltato il distanziamento tra i tavoli anche questo è vero oggi il varo del nuovo decreto con misure più restrittive serrande dai locali abbassate alle 24 norme anti assembramento in strada anche perché il ristorante adesso non avendo più gli spazi esterni o comunque essendo freddo la gente preferisce stare dentro chiaramente dentro per i ristoratori diventa un problema e allora spesso si chiude un occhio si riattaccano i tavoli e quindi diventa un problema allora qui ci sono le varie regole per quanto riguarda i matrimoni i parti in famiglia lo smart working tutte cose che potete leggere sul quotidiano nazionale di questa mattina salta il doppio tampone quarantena più corta alto là dell'inps l'isolamento non è malattia svolta imposta dal ministro e dal cts bastano 10 giorni anziché 14 ok ai test super veloci per i contatti stretti dei positivi per gli studenti l'istituto chiude i rubinetti si ha diritto alla tutela previdenziale solo quando l'obbligo di stare a casa è deciso dall'autorità sanitaria allora i pediatri qui andiamo a prendere tutte e due le pagine le mettiamo insieme così ecco le guardiamo ecco tutte qua anche perché il titolo prende due pagine raffreddore non si sa test subito i pediatri sono in tincea questo è il correre adriatico di questa mattina per scongiurare il rischio contagio sono aumentati tamponi i tamponi del percorso scuola i prelievi vengono effettuati nei drive in allestiti in tutte e cinque le aree vaste per evitare di intasare le altre strutture preposte gli appuntamenti sono rapidi ma qualcuno ancora non li prescrive e nelle Marche si fanno pochissimi tamponi le risposte tardano in classe dopo sei giorni parla il pediatra Bruno Arcangeli segretario FIMP regionale che dice a scuola solo dopo la certezza che sia covid da sei mesi ai sei anni il vaccino contro l'influenza invece è gratis questo lo ricordiamo Orbino invece la questione degli assembramenti del provvedimento che è stato preso dal sindaco Gambini quello che viene chiamato giornalisticamente coprifuoco il provvedimento ingiusto e inutile gli assembramenti erano in piazza i gestori dei locali notturni costretti a chiudere a mezzanotte stessa folla nei bar che lavorano la mattina mentre questa è la fotografia uno scatto alle notti ducali per il Briatore pentito il contagio trasforma Flavio Briatore che sceglie Instagram per parlare ai ragazzi e posta una foto della movida urbinate ecco Flavio Briatore anche lui colpito dal covid qualche mese fa nel suo profilo a Instagram seguito da tante persone ha deciso di prendere questa foto di Urbino e di poi scrivere alcune cose tipo voi ragazzi sapete quanto vi abbia sempre difeso condannando chi si cercasse che si cercassero nei giovani gli untori da dover condannare oggi la situazione è delicatissima scrive Briatore e il rischio di nuove chiusure è reale e sapete cosa potrebbe significare la morte irreversibile di un paese che non può permetterselo continuo a vedere immagini di assembramenti fuori dai locali che nulla hanno a che fare con l'idea di svago o gogliardia ma solo grande irresponsabilità e inconscienza ora più che mai dobbiamo evitare che blocchino il paese questo lo scrive Briatore su Instagram postando, lo ripeto, questa foto da Urbino e il giro di vite però funziona almeno per l'uso di mascherine registrati assembramenti nei luoghi più frequentati ma le forze dell'ordine non infieriscono siamo in provincia di Pesaro effetto deterrente dei pattugliamenti continui è importante l'ausilio anche della vigilanza privata verifiche in nove locali del centro storico di Pesaro senza evidenziare problemi una sola multa ad un quarantenne che era senza protezione coprifuoco a mezzanotte rabbia ma niente sgarri da Urbino il Corriere Adriatico raddoppiato il personale di polizia e carabinieri in campo nessuna multa mentre il CSI protesta è il centro sportivo italiano e dice non bloccate lo sport minore per errori di pochi privati mentre allerta sugli assembramenti al Pincio di Fano mano di velluto però delle forze dell'ordine stessa situazione e atmosfera anche per il sabato sera fanese attenzione delle forze dell'ordine concentrata sul Pincio il centro storico e la zona del mare impegnati nei controlli polizia, carabinieri e polizia locale controlli e pattugliamenti che ancora prediligono la fase dell'informazione e della sensibilizzazione prima di passare a quella delle sanzioni anche perché ricordiamo tutti che la sanzione insomma non è non sono noccioline o bruscolini come diceva qualcuno insomma parliamo di centinaia di euro dei 400 euro in su ora la pagina di peso del provincia del resto del Carlino pubblica due lutti che ci colpiscono anche mi colpiscono nel senso che conoscevo tutte e due le persone due persone due belle persone davvero intanto vabbè padre Damiano Angelelli la più più famoso la persona più famosa sicuramente aveva 101 anni eccolo qua in questa foto che in tanti ricorderanno anche noi l'abbiamo intervistato alcune volte perché aveva raggiunto la veneranda età insomma dei 100 anni un frate che per tanto tempo è stato al cimitero centrale custodiva la cappella del cimitero centrale insomma una persona straordinaria aveva 101 anni faro per la comunità titola il resto del Carlino per 74 anni era stato frate nel convento di San Paterniano 74 anni arrivò in città nel 46 con un incarico adesso fa sorridere provvisorio in realtà provvisorio 74 anni è stato nel convento di San Paterniano ed è stato un punto di riferimento per la comunità fanese aveva lasciato il convento di San Paterniano a giugno di quest'anno per trasferirsi nella comunità dei frati Capucini di Macerata che accoglie i frati anziani quella che si chiama l'infermeria quando si dice uno va a Macerata all'infermeria della comunità vuol dire che insomma è avanti con gli anni non sta molto bene e infatti padre Damiano ormai aveva raggiunto insomma una certa età come si dice 101 anni lo ricordiamo con tanto affetto e vi dico adesso anche quando sarà il funerale sì perché in tanti sicuramente lo andranno salutare allora padre Damiano sarà sepolto nel cimitero centrale al termine del rito funebre che si svolgerà nella basilica di San Paterniano domani alle ore 11 e vale la pena ricordare scrive Anna Marchetti questa mattina una frase che disse per la festa dei suoi cento anni al giornale il Carlino sono sereno mi sento un privilegiato che si gode la vita da un alto piano da una parte vedo una fila di cipressi la di partita da questo mondo dall'altra un grande cancello con dietro una luce bianca abbagliante ed è tutto quello che adesso contempla e vede e gode per l'eternità e poi c'è un'altra scomparsa una scomparsa di un'altra persona molto stimata e conosciuta Dino Droghetti ingegnere ultimo presidente della circoscrizione Vallato è morto questo ingegnere della SNAM Progetti in pensione da alcuni anni da tutti conosciuto per il suo impegno politico iniziato nella democrazia cristiana fu anche segretario della sezione di Fano e poi proseguito fino al PD tuttora faceva parte dell'assemblea del partito cittadino ed è stato l'ultimo presidente della terza circoscrizione San Lazaro Vallato ed è lì che appunto l'ho conosciuto i funerali di Dino Droghetti morto la notte scorsa si svolgeranno domani nella parrocchia di San Paolo Apostolo al Vallato alle 10.30 con partenza del corteo funebre alle 9.15 dall'ospedale di Torretti di Ancuna la salma poi sarà trasferita al cimitero di Loreto addio al cappuccino più anziano del mondo titolo del Corriere Adriatico di Fano padre Damiano Angelelli si è spento all'età di 101 anni originario di Cingoli presente a Fano dal 1946 era il frate del cimitero organizzato tante gite e la tombola di San Paterniano domani come abbiamo detto le esecue andiamo sull'altra pagina dalla regione di Fano dalla regione 100.000 euro per i bus scolastici elettrici l'annuncio del sindaco di Terra Roveresche Antonio Sebastianelli che conferma i bonus bebè ubriaco al volante urta contro un palo dell'illuminazione cassonetto e auto a Fano aveva bevuto troppo seminando il panico al volante della sua auto in via a Monfalcone appunto a Fano un pergolese di 37 anni è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza dai carabinieri di Fano che lo hanno appunto fermato e controllato sempre sulle pagine del Corriere Adriatico da Monteporzio minaccia di lanciarsi nel vuoto tratta in salvo dai carabinieri una pensionata resta per più di un'ora in bilico sulle mure di Castelvecchio i carabinieri l'hanno salvata il secondo caso nel giro di pochi giorni l'altra notte erano stati militari della stazione di Mondolfo a far desistere una marottese di 50 anni in forte stato di agitazione dal compiere estremo gesto ieri mattina invece i carabinieri di Monteporzio insieme al 118 hanno messo in salvo una pensionata di 65 anni che alle 6.20 del mattino minacciava di buttarsi dalle mure di Castelvecchio con un salto nel vuoto per 25 metri a Marotta a Marotta invece scuola chiusa e mercato annullato per il giro mercoledì da Marotta la tappa su bici elettriche Marotta ospiterà mercoledì la decima tappa del giro E si disputa utilizzando solo ed esclusivamente biciclette da strada e pedalata assistita è un evento cicloturistico inserito nel calendario della federazione quindi è uno sport importante la tappa si concluderà dopo 101 km a Rimini però con bici elettriche Senigallia shock in casa il grido alla moglie non mi lasciare o mi ammazzo nell'appartamento di Marzocca scatta l'allarme arrivano i carabinieri ed evitano il peggio gli aveva detto se mi lasci mi ammazzo o meglio gliel'aveva gridato più che detto un marito rivolto alla moglie nell'implorare nell'implorarla di restare con lui è stato necessario l'intervento del 118 per evitare che l'uomo in preda ad un grande stato di agitazione potesse compiere un gesto in consulto per fortuna i suoi intenti sono rimasti solo a livello verbale l'episodio è avvenuto a metà della scorsa settimana in un appartamento in via Sorrento a Marzocca di Senigallia poi a Ostravetra invece i vigili del fuoco a lavoro per uno scantinato in fiamme allarme che è scattato nella notte Ponte Garibaldi continua a perdere pezzi lanciato un nuovo SOS e si aprono anche crepe ai lati della struttura che potete vedere in questa fotografia un ragazzino in coma etillico a Urbino salvato dal 118 la movida è senza eccessi tanti controlli nessuna multa nei locali affollati a tal punto da essere puniti con una sanzione anche a Urbino giovani più responsabili con le mascherine sabato più tranquillo dunque nella città ducale gli universitari avevano tutti quanti la mascherina tante le chiamate però per via Cavour dove c'era tanta gente poi col 113 tutto è tornato in regola sfonda la porta picchia la moglie i carabinieri mettono fine ad un incubo a Pesaro la donna si è chiusa in camera con i due bambini poi è fuggita in strada ed è partito l'allarme una notte d'inferno una madre chiusa con i suoi due bambini in camera il marito violento che ha sfondato la porta è uno dei momenti di terrore che una nigeriana di 40 anni ha dovuto affrontare nella notte tra sabato e domenica un rapporto turbolento in cui lei aveva già segnalato alla polizia la violenza del marito un uomo di 36 anni percosse urla ma anche rapporti al limite della violenza sessuale un clima difficile stati di paura e di ansia che l'altra sera si sono presentati in tutta la loro veemenza per bloccare il 36enne ci sono volute tre pattuglie e un militare che è finito al pronto soccorso e poi a Fano un torneo della bocciofila dedicato alle vittime del covid e qui vedete Giorgio Scrofani autista del 118 tra le vittime della pandemia della prima ondata è stata un'iniziativa particolare quella della combattente sabato scorso nell'organizzare appunto il torneo regionale individuale cimitero pericolante siamo a Pesaro il cimitero centrale a San Decenzio cade a pezzi soprattutto il padiglione dei fiori tutto transennato accesso vietato lavori di sistemazione ancora da progettare una causa civile in corso con la ditta di costruzione che batte cassa per non essere stata pagata e il comune che chiede il risarcimento danni per la cattiva costruzione dei padiglioni la ristrutturazione verrà inserita nel piano delle opere del 2021 i costi saranno superiori al milione di euro l'assessore Belloni dice rimedieremo da tre anni l'accesso al padiglione dei fiori è vietato le transenne sono ovunque la gente protesta per questa situazione che è diventata inaccettabile la vedete in queste fotografie poi sempre sui quotidiani di questa mattina andiamo a Pesaro ancora video sorveglianza isola ecologica l'edima rivoluzione alla sicurezza patto tra residenti e comune per condividere acquisto e manutenzione delle spy cam poi sotto caditoie ostruite in via Togliatti non aspettate altri allagamenti la nostra Pesaro chiede interventi a Marche Multiservizi viste le piogge in arrivo in questi giorni ma un po' anche per la stagione insomma Nonno Mino torna invece attiva oggi riaprono tre centri a Vallefoglia l'associazione svolge un'attività di inclusione per malati di Alzheimer e del Parkinson operative alle sedi di Rio Salso Montecchio e Urbino presto anche a Pesaro e Monte Calvo fusione organizzata in tre mesi vantaggi svaniti il comitato per il no al nuovo comune Sasso Corvara l'auditore chiede la revisione del processo siamo allo sport velocemente troppa samba per il Fano il Fano che perde in caso 2-0 derby al Mancini e Rosso Blu che si dimostrano più incisivi a segno d'Angelo e Bacio Terracino avvio promettente di Granata che poi regiscono però tardi e si rendono pericolosi soltanto alla fine il patron dell'Alma Fidani dice un risultato troppo penalizzante per noi peccato per quegli errori il mister del Fano Alessandrini puniti su due nostre ingenuità ma non siamo andati male ci abbiamo provato e comunque questa sconfitta deve insegnarci tante cose per il futuro abbiamo perso contro una big del campionato ma comunque siamo stati all'altezza la Visi invece vince vince 2-1 contro il Mateliga ribalta tutto i pesaresi centrano la prima vittoria e fermano al Benelli la marcia della squadra di Colavitto Moretti sblocca il risultato del primo tempo Lazzare su rigore e pezzi confezionano la rimonta il tecnico ospite Colavitto dice loro l'hanno messa dentro noi no ma la mia squadra non ha deluso Galderisi l'allenatore tre punti d'oro per ritrovare la serenità anche sua personale perché insomma un'altra sconfitta avrebbe messo in discussione la sua panchina ma il mister dice aveva notato del malumore dopo i due K.O. adesso ci siamo rialzati bene è andata bene anche per la VL una VL che affonda Venezia rompe il ghiaccio al Pala Tagliercio una prova eccellente della Carpegna prosciutto anche senza il capitano Delfino i pesaresi hanno giocato con autorevolezza finita 72 a 90 come dicevamo per i pesaresi sono in avvio solo in avvio la Reier è stata davanti poi il crescendo è stato tutto Rossignano e poi è sempre dal corriere successo meritato è un piacere allenare ragazzi come questi dice coach Repegia entusiasta fai complimenti alla VL tutta la squadra va elogiata ognuno di noi ha contribuito e con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa grazie per averci seguito stasera TG e poi c'è Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri grazie per averci seguito buona giornata a tutti